... Intervista all'assessore dell'ambiente Andrea Montis, stretto contatto anche con la regione per la gestione della Posidonia spiaggiata, l'obiettivo è avere le spiagge prode per giugno anche prima e in intervista anche un passaggio sul recente incontro a Roma. Prosegue il nostro viaggio tra gli istituti superiori cittadini impegnati con gli Open Day, lo scorso fine settimana siamo andati al liceo scientifico Fermi e all'istituto Arotte. Nella pagina sportiva i risultati del weekend, l'amatori Alghero perde a Torino, per il calcio si ferma la marcia dell'Audax, bene il Treseliges, capo alle due squadre di calcio a 5, per il basket sorride solo la Mercedes. Un buon inizio di settimana a tutti voi, bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale, questi erano i titoli, apriamo però con la cronaca, perché 50 persone risultano indagate dalla direzione distrettuale antimafia di Cagliari, tra queste diverse di Alghero. Il sospetto è che facessero parte di un'organizzazione che nel 2011 si occupava di rifornire ai mercati della droga del nord Sardegna, in particolare quelli di Sassari, Alghero e Porto Torres. Secondo quanto riporta la nuova Sardegna, l'accusa più pesante è quella di aver costituito un'organizzazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti ed è a carico di 4 nigeriani residenti tra Sassari, Olmedo e la Nigeria. Sarebbero stati loro a provvedere al reperimento della droga, in particolare eroina e cocaina, soprattutto dalla Spagna. La rete che avevano messo in piedi si serviva di una serie di ovulatori ingaggiati come corrieri della droga e di diversi cittadini algheresi e sassaresi che si occupavano dello spazio in città. E sempre per la cronaca, invece, a caccia i malviventi che nella notte tra sabato e domenica hanno divelto una serranda e poi aperto la vetrata degli uffici dell'anagrafe in via Catalogna. Nel mirino la cassaforte e oltre ai contanti forse anche le carte d'identità, malviventi che sono comunque fuggiti a mani vuote. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Alghero. Proseguiamo con un'intervista all'assessore all'ambiente del Comune di Alghero, Andrea Montis. Con lui abbiamo parlato del recente incontro a Roma con la deputata algherese Paola Dejana. Ci siamo soffermati sul problema Posidonia spiaggiata in particolare. L'obiettivo è arrivare pronti all'estate con le spiagge pulite già a giugno, se possibile, anche prima. Assessore, nei giorni scorsi un incontro importante a Roma con il sindaco, con la deputata algherese Paola Dejana. Diversi temi che sono stati affrontati. Sì, abbiamo incontrato a Roma la segreteria tecnica del Ministro dell'Ambiente, il capo ufficio della segreteria tecnica del Ministro dell'Ambiente. Diversi gli argomenti trattati, in particolare quelli che riguardano tutta l'area del parco di Porto Conte. Siamo soddisfatti di questo incontro. Non aggiungo altro perché sono dei processi ancora in itinere. Non voglio creare false aspettative, però ci sono dei grandi progetti in corso. Uno era stato già tra l'altro anticipato che riguarda proprio Capocaccia. Parliamo però di un tema molto delicato che riguarda in particolare Alghero, ma non solo, che è quello della posidonia spiaggiata, la gestione dei litorali. Si sta lavorando ovviamente su questo fronte? Stiamo lavorando tantissimo su questo fronte per non farci trovare impreparati già dal mese di aprile. Dovremo iniziare quelle che sono le movimentazioni, quindi le pulizie che risponderanno a quello che è il contratto in essere. Poi ci sarà da procedere a quello che è il recupero della sabbia dei depositi presenti in località Cuguttu. Su questo stiamo cercando diverse soluzioni. Proporremo diverse soluzioni, soprattutto soluzioni che possono rispettare anche quelli che sono i principi di economicità di una pubblica amministrazione. L'obiettivo è comunque farsi trovare pronti per quest'estate, quindi per giugno? Sicuramente saremo pronti per giugno, anche perché la ditta, nonostante abbia avuto l'anno scorso un primo periodo di rodaggio, ha poi proceduto in maniera spedita, lavorando davvero bene. Gli avvisi di accertamento e le giudizioni di pagamento notificate dalla Step, come detto, sono stati sospesi per 90 giorni. Dell'intervento dell'amministrazione ne abbiamo parlato sabato con l'assessore alle finanze e tributi Giovanna Carie riguardo all'ondata massiva di provvedimenti recapitati agli algheresi relativi ai periodi di imposta 2014-2018 su Tari e IMU. Un intervento tuttavia criticato da Pietro Sartore, consigliere comunale di opposizione, secondo il quale questa sospensione per 90 giorni degli atti notificati rischia di essere inutile, se non dannosa per i contribuenti, se ad essa non seguirà l'annullamento degli atti. Spero, infatti, che a Portaterra sappiano che il provvedimento di sospensione non sospende in alcun modo i termini di impugnazione dell'atto, ma impedisce semplicemente a Step e Comune di mettere in esecuzione lo stesso, sottolinea Sartore. Il rischio, invece, è che il cittadino fuorviato da questo provvedimento non proponga ricorso o non richieda accertamento con adesione entro i termini di legge. In questo modo l'atto diventerebbe definitivo ed è bene che si sappia che in un ipotetico giudizio la scadenza dei termini può essere eccepita d'ufficio direttamente dal giudice. In sostanza, prosegue l'esponente della lista per Alghero, il cittadino, confuso da questo provvedimento di sospensione fiscale, nel momento in cui una cartella oggi sospesa non venisse annullata, potrebbe poi non avere più il tempo per proporre ricorso. Per tale ragione, secondo Sartore, l'amministrazione dovrebbe piuttosto consigliare ai cittadini di proporre accertamento con adesione, invece di fare atti di dubbia legittimità. Dovrebbe inoltre annullare in tempi brevi gli atti errati e soprattutto vedere se vi siano possibilità di risolvere il contratto con la Step per giusta causa. A tal proposito, conclude Sartore, mi limito a consigliare ai nostri amministratori di leggere bene l'articolo 10 del contratto tra il Comune e la società Step e l'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto. Pensare invece di risolvere il problema, semplicemente con una peraltro fuorviante, in sospensione degli atti, sarebbe come pensare di curare un malato grave con un bicchiere di acqua fresca. E ora torniamo sul stop, sul recente stop al progetto della Quattro Corsie, del completamento della Quattro Corsie, perché i due circoli cittadini di Fratelli d'Italia intervengono nel merito, dicono che Fratelli d'Italia sarà fermamente al fianco del presidente Solinas nel ricorso al Taro, unico vero strumento per ottenere giustizia. Siamo ormai abituati a uno Stato e una burocrazia che nel tentativo folle di produrre montagne di regole logiche costituiscono il principale ostacolo allo sviluppo e al benessere dei cittadini. Anche stavolta i burocrati stanno affrontando in maniera inammissibile un dossier centrale per il nord-ovest della Sardegna. Così i due circoli algheresi di Fratelli d'Italia intervengono sul recente stop del Ministero dei Beni Culturali al progetto di completamento della Sassari Alguero. Lo fanno con il classico spirito del non finito, che ha trasformato le infrastrutture italiane in generale, e Sarde in particolare, in una rete incompleta, obsoleta, quando non addirittura pericolante, contribuendo al declino. Lo stop alla realizzazione di un ultimo tratto a quattro corsie dell'Alguero-Sassari-Olbia, motivato attraverso le prescrizioni del pessimo piano paesaggistico di Soru, proseguono dai due circoli di Fratelli d'Italia, è doppiamente ridicolo. Da un lato i burocrati del Ministero vorrebbero imporre ottusamente che l'ultimo tratto passi da quattro, strada extraurbana principale, a due corsie, strada extraurbana secondaria, con relativi limiti di velocità, creando un insensato collo di bottiglia che andrebbe a eliminare qualsiasi vantaggio in termini di sicurezza e scorrimento previsti. Dall'altro lato, superandosi in ironia, chiedono di non considerare le limitazioni da ambientalismo talebano poste dal PPR su un'ampissima zona costiera come un puro e semplice divieto, bensì come uno stimolo positivo. La proverbiale Beffa, che si aggiunge al danno, proseguono da Fratelli d'Italia. Nessuno tra questi, del Signori, né tra i politici sardi dei partiti di questo pessimo governo nemico dello sviluppo, deve aver notato che perfino il PPR di Soru non è scritto sulla pietra, né è un tabù ed è anzi derogabile. Lui è almeno in due circostanze, laddove il progetto fosse stato già approvato o nella situazione in cui si sia in presenza di un'importante opera infrastrutturale rilevante per il tessuto socio-economico del territorio. Crediamo che solo qualcuno in malafede non riterrebbe chiara l'importanza che il completamento della quattro corsie ha per le imprese e le famiglie del nostro territorio. I due circoli di Fratelli d'Italia lanciano inoltre una piccola provocazione. Se si fossero basati sui dati del traffico in loro possesso, qualcuno avrebbe mai deciso di costruire l'aeroporto di Orio al Serio? Le infrastrutture servono proprio a migliorare le condizioni e lo sviluppo di un territorio. Crediamo che le dichiarazioni fatte dal presidente Cristian Solinas siano del tutto condivisibili. Come dimostrato anche dall'attivismo del circolo sassarese, Fratelli d'Italia sarà fermamente al fianco del presidente nel ricorso al TAR, unico vero strumento per ottenere giustizia. Altri pensavano a demagogici teatrini o dispendiosi e completamente inutili referendum. Noi preferiamo lavorare seriamente. Inizino anche loro, però ora resta l'amara consapevolezza del blocco che la burocrazia, la sinistra e l'ambientalismo ottuso hanno costituito e continuano a costituire per lo sviluppo e il benessere di un'intera nazione. Per invertire la rotta serve restituire libertà alle persone, autonomia ai territori, concludono dai due circoli di Fratelli d'Italia. Ci fermiamo per un primo break pubblicitario. Tra poco. Incontro molto partecipato, quello moderato sabato, dall'ex sindaco di Alghero Marco Tedde e organizzato dagli assessori Zedda e Fasolino e dal gruppo consigliare regionale di Forza Italia sul tema del lavoro. Dopo l'incontro affollato di Nuoro della scorsa settimana nel quale si discusse di agricoltura, del prezzo del latte, dei problemi del settore Ovi-Caprino e del comparto zootecnico, i vertici di Forza Italia si sono ritrovati quindi a Cagliari per parlare di lavoro e impresa. Una straordinaria occasione di incontro e confronto sui temi del lavoro, una splendida opportunità per accendere i riflettori sulle azioni presenti e future del governo regionale. Una sala gremita preso con favore della dotazione di 120 milioni di euro del pacchetto lavoro inserito nella finanziaria che a breve approderà in Consiglio regionale. Risorse per artigiani e per favorire la creazione di occupazione, ma si è parlato anche di microcredito, di tirocini, bonus e voucher che saranno al centro dell'azione del governo regionale. Al centro del dibattito anche l'esigenza di formare i giovani per rispondere alla richiesta di lavoratori nelle nuove tecnologie, ma anche la necessità di prepararli e interpretare gli antichi mestieri delle tradizioni sarde. L'incontro è nato da un'idea dell'assessore del lavoro Alessandra Zedda, visto tra gli altri la partecipazione, come detto, dell'assessore alla programmazione Fasolino, del coordinatore regionale Ugo Cappellacci, dell'onorevole Pietro Pittari e dell'onorevole Salvatore Cicu, dei consiglieri regionali, Cociu, Talanas e Cera di tanti sindaci, tra i quali quelli di Cagliari e Selargius, Truzzo e Concu, disponenti di spicco di Forza Italia e di autorevoli rappresentanti delle imprese e dei lavoratori. Nel momento in cui gli operatori balneari stanno pianificando l'estate che verrà, il Governo nazionale in modo del tutto è responsabile, sembra aver cambiato idea sulla proroga delle concessioni fino al 2033, facendo piombare nell'incertezza l'intero comparto. Così, Alberto Obamonti, consigliere comunale e segretario cittadino dei riformatori sardi, secondo il quale l'estate 2020, quindi la prossima, rischia di essere caldissimo per i balneari, con gravi ripercussioni per gli addetti del settore, per i servizi di spiaggia e per l'immagine turistica dell'Italia. Soprattutto per chi deve investire come riformatori sardi di Alghero chiediamo un atto di responsabilità da parte del Governo con l'emissione della circolare applicativa relativa alla legge numero 145 del 2018 in materia di proroga delle concessioni demaniali e soprattutto, conclude Obamonti, con il previsto decreto per la riforma del settore. Siamo solidali con gli operatori locali e pronti a dare battaglia nelle opportune sedi per restituire serenità e dignità alla categoria, aggiunge l'esponente di centrodestra. E ora cambiamo argomento, prosegue il nostro viaggio tra gli istituti scolastici, in particolare quegli superiori, cittadini, che sono alle prese con i vari Open Day, ovvero le giornate di presentazione ai nuovi potenziali iscritti e alle loro famiglie. Dopo l'artistico Costantino Elipia, spazio oggi allo scientifico Fermi, al liceo scientifico Fermi, ai nostri microfoni la docente, la professoressa Costantina Cossu. Siamo in compagnia della professoressa Costantina Cossu, quest'oggi l'Open Day anche al liceo scientifico Fermi. Ogni anno ci si rinnova, tante novità anche per quest'anno. Sì, come avete potuto vedere, abbiamo tutti i laboratori aperti, oltre a offrire il laboratorio di biologia, il laboratorio di chimica, il laboratorio di fisica innovato, grandissimo, dotato anche delle ultime tecnologie, dove non è possibile usare la strumentazione tradizionale, si usa l'interazione. Abbiamo un nuovo laboratorio di geologia chiamato Georex, poi abbiamo il fioralocchiello, che è l'aula 4.0, dove tutti gli ambienti sono divisi in quattro parti, una parte destinata alla robotica ad alto livello con l'Umanoidenau, il programma Coregraf, una parte destinata ai robot in botte, in V3, una parte cinema e una parte videoconferenza. È una scuola innovativa, una scuola di transizione fra passato e futuro. Noi abbiamo a cuore il futuro dei nostri giovani, quindi è giusto che loro vedano ciò che la scuola può offrire. Noi siamo certi di offrire nel nostro istituto una formazione a 360 gradi, sia in quello che è il corso del liceo scientifico tradizionale e nel corso del liceo scientifico delle scienze umane. Diamo una preparazione ampia che consente ai nostri alunni di sviluppare e di spaziare in quella che oggi è la STEM educazione, quella proprio richiesta da Piano Nazionale Scuola Digitale, quella richiesta a livello europeo. I nostri alunni hanno un successo formativo nelle materie che vanno dalla medicina all'ingegneria, all'informatica, all'economia. Ciò è una grande soddisfazione per il nostro istituto perché noi li monitoriamo e guardiamo come vanno avanti e qualora ci fossero delle difficoltà siamo pronti a rimuovere, a modificare in modo che i nuovi alunni abbiano un futuro certo nel quale possano portare avanti quelle che sono le loro competenze. In più ci tengo a dire che siamo una scuola, un istituto inclusivo dove sia gli alunni che hanno un po' di difficoltà vengono supportati e guidati, ma anche gli alunni stranieri frequentano un corso di alfabetizzazione d'italiano che gli consente di avere quegli strumenti minimi per capire e per seguire a scuola e in più hanno la possibilità di frequentare e di conseguire la certificazione in lingua italiana, oltre alla certificazione in lingua inglese che permettiamo con la preparazione a tutti i nostri alunni perché è la lingua che si studia l'inglese in tutti quanti i corsi, oltre all'inglese l'italiano per stranieri. E ora spazio anche l'Istituto di Istruzione Superiore Rotti, in questo caso abbiamo intervistato il dirigente scolastico, il professor Angelo Parodi. Questa sera abbiamo fatto l'open day che ci sarà anche domani mattina dalle 10.30 a mezzogiorno e mezza. Sono venuti molti genitori con molti ragazzi che intendono conoscere la scuola per iscriversi qui l'anno prossimo. Siamo molto contenti di questa affluenza. Ci sono i ragazzi, i docenti che stanno illustrando le caratteristiche dei nostri corsi. Speriamo che i ragazzi, conoscendoci, conoscendo la nostra scuola, prendano la decisione di iscriversi da noi per il prossimo anno. La nostra è una scuola, come hanno evidenziato anche recenti ricerche di mercato, che offre la possibilità dell'inserimento nel mondo del lavoro, ma anche una buona preparazione per affrontare gli studi universitari. E queste erano le interviste che abbiamo realizzato quindi nel fine settimana in alcuni istituti superiori. Noi ci rivediamo tra poco, un'altra pausa pubblicitaria, poi lo sport. Non è iniziato bene il girone di ritorno per l'Alguero. Stiamo parlando di rugby. Nella gara valevole come decima giornata del girone 1 della Serie A, perso 41 a 6 sul campo del Custorino. Non ha guadagnato neanche un punto per la classifica. E ora Centurioni e Cus Genova sono più vicine. Parte adesso. Sconfitta pesante per l'Alguero sul campo del Custorino. I piemontesi hanno battuto i catalani per 41 a 6, guadagnando 5 punti. Il 15 algherese ha messo la firma al tabellino solo nel primo tempo. 6 punti realizzati in questa gara, frutto di due piazzati di Micheli. L'Alguero ha provato a tenere testa la formazione piemontese, che ha dimostrato però il suo valore e soprattutto non ha permesso che l'Alguero portasse via nemmeno un punto dal proprio campo. Alguero, che ha dovuto subire un parziale ampio già nel primo tempo con il 22 a 6, nella ripresa poco è cambiato, con il Custorino che ha trovato per altre tre volte la via della meta, segnando 19 punti che sommati ai 22 dei primi 40, hanno fissato il risultato sul 41 a 6 per la compagine piemontese. Serra e compagni non sono riusciti dunque a conseguire un'altra vittoria dopo quella di sette giorni fa in casa con i centurioni e a dare continuità a questo percorso. Diversa la prestazione. I centurioni, che vittoriosi con il Parabiago, sono saliti a sette punti, a meno tre, proprio dall'Alguero, che resta terz'ultima con dieci. Sette punti anche per il Cus Genova, che però ha una gara in meno. Tornando alla gara di ieri, la cronaca racconta che i primi ad andare a segno sono stati gli algheresi su piazzato, Micheli preciso per lo 0-3. Cinque minuti dopo il Reeves, per i padroni di casa a far meta e a realizzarla, siglando il vantaggio per i suoi 7-3. Il Cus spinge e trova altre due mette, al diciassettesimo con Pretrolati, al trentacinquesimo con Civita, quest'ultima non trasformata. L'Alguero muove il tabellino con Micheli, che mette a segno il secondo piazzato per il temporaneo, 19-6, ma il primo tempo si chiuderà a 22-6 per i padroni di casa, come detto, che incrementeranno di altri tre punti con un piazzato di Reeves, dal quarantesimo. Nella ripresa solo Cus, a referto, tra le mette siglate all'ottavo, ventesimo e trentacinquesimo, a firma di Quaglia, Reeves e Petrolati, solo le prime due trasformate. La gara si chiuderà con il punteggio di 41-6. Cinque punti per i torinesi, zero per i catalani, che devono necessariamente ritrovare la via della vittoria, che appare punti preziosi per la corsa alla salvezza. Nel prossimo turno a Maria Pia arriverà il Parabiago, che in classifica precede l'Alguero con 22 punti. Passiamo alla calcio. In seconda categoria, Girone G, si è fermata la corsa dell'Audax, dopo 12 risultati utili di fila. La squadra di Nanno Correddo è stata battuta 2-1 in casa dalla capolista Ploaghe, per gli algheresi a segno Soggiu. Audax che scivola al quarto posto, a meno 5 dal primo e a meno 4 dal secondo. Bella vittoria esterna invece per il Treseliges, 3-1 sul campo del Calmedia Bosa, per la formazione guidata da Angelo Bardini, in gol Argiolas, Ballarini e Fall. Treseliges che sale a quota 17 in classifica, staccando il Mara e superando la Sporting Cantera. Passaggio anche sugli altri campionati. In terza categoria, pareggio esterno 1-1 del 1945 al Ghero, sul campo del Lipunti. In prima categoria, Girone D invece brutta sconfitta casalinga per l'Olmedo, 5-1 contro la vice capolista Tempio, per i bianco-verdi, gol della bandiera siglato da Secchi, su calcio di rigore nella ripresa. Ressato un weekend anche all'insegna del calcio a 5, purtroppo andrebbe sconfitta le due formazioni cittadine. La Fuzza L'Alguero ha perso 5-8 in casa contro il Drillos Team dei brasiliani Tiago Ribas e Luamasa. Nonostante il K.O. una buona prestazione comunque per i ragazzi di Mr. Canu. In gol Fozzi con una tripletta, Idili e Secchi. Poi a completare appunto il tabellino, giallorossi che restano al quarto-ultimo posto in C1. Sconfitta anche l'Audax nel campionato di C2. La squadra guidata da Antonio Baldino, che ha dovuto fare i conti con diverse assenze, ha ceduto 7-2 sul campo dell'Iron Bridge Olbia. Inizia l'evantaggio algherese con Sanna, poi salita in cattedra la formazione gallurese. Secondo gol dell'Audax, firmato da Moro nel finale. In classifica gli algheresi restano al quinto posto. E chiudiamo la pagina sportiva e anche il TG con il basket. In B femminile, bella vittoria esterna per la Mercedes. 89-72 sul campo del Sant'Orsola, che consente alle ragazze guidate da Manuela Monticelli di andare a meno 2 dal terzo posto e meno 4 dal secondo, occupato proprio dalle Sassaresi. Inizia male invece la fase a orologio della Dimaschile per la Coral, sconfitta nettamente sul campo del Generugi. 77-49 in favore dei Cagliaritani, che allungano più 10 in classifica. La formazione algherese resta al terzo posto, raggiunta però dal San Salvatore Selarcius. Il basket, come detto, chiude l'edizione odiana del nostro telegiornale. Io vi lascio come sempre al meteo. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.